È molto tecnico, ha un bel flow e ha le personalità giuste per essere uno tra gli Eminem in Italia Ma se ti chiedono qual è la tua canzone preferita di Nitro è Pleasantville Dove cazzo è finito? E voi? L'avete visto? L'avete visto? Sicuramente voi l'avete visto Ho visto l'assù, e anche l'assù, e anche l'assù, e anche l'assù che addirittura è il punto più alto È l'armadio Dove sarà finito? Ah, ecco A livello di testi e autoironia è l'Eminem in Italia A livello tecnico, il più forte d'Italia Ah, il secondo rapper più veloce d'Italia Aspettate un attimo, ho detto secondo, e allora chi è il primo? Se tutti dicono Sensei, ve lo dirò in un prossimo video Ma quando è che torni a fare wewe nei pezzi? All'inizio lo ascoltavano soltanto i rapusi, adesso addirittura mezz'io ogni volta che deve dare buongiorno a tutti Prima di Rockstar era il king della trap, adesso è lo pseudo, king della trap I suoi testi sono la purabilità di ciò che è il mondo, molte scuole dovrebbero ospitarlo Ah no, aspetta Grazie a tutti